E' stato scarcerato Don Antonello Tropea, il parroco di Messignadi, arrestato nei giorni scorsi per sostituzione di persona, detenzione di materiale pornografico e adescamento di minorenni. Ieri il sacerdote era stato ascoltato dal GIP. Secondo la procura, il parroco avrebbe adescato su internet diversi giovani, fra questi anche dei minori, che poi circuiva e convinceva ad incontri reali. Il GIP di Reggio ha accolto l'istanza di scarcerazione dei legali di Santi Zappalà, concedendo all'ex consigliere regionale gli arresti domiciliari. Zappalà, componente della giunta Scopelliti, era stato coinvolto nell'inchiesta reale. Al vaglio degli inquirenti, soprattutto le visite dell'ex consigliere in casa del boss Giuseppe Pelle, detto Gambazza, finalizzate l'ottenimento, secondo le accuse, di un posto in consiglio regionale. Arrestato nel 2010 con l'accusa di corruzione elettorale, Zappalà è stato condannato in via definitiva a due anni e otto mesi di reclusione. I carabinieri di Melito Portosalvo hanno arrestato su indicazione della procura di Reggio l'imprenditore quarantenne Virgilio Foti, accusato del tentato omicidio di un suo dipendente, un 48enne di origine ucraine. L'episodio risale all'agosto scorso, quando i carabinieri della stazione di Melito Portosalvo sono intervenuti in seguito alla segnalazione che avrebbe indicato la presenza di un uomo sanguinante riverso a terra. Foti avrebbe in quell'occasione volontariamente investito l'uomo solo perché gli aveva chiesto un aumento di paga. È stata danneggiata dai gnoti l'autovettura della segretaria della Filt CGL Regina Sonia Falzia. L'episodio è avvenuto all'interno dell'aeroporto di Reggio Calabria. Sonia Falzia, che è anche responsabile Filt aziendale della Soga, si è impegnata in prima persona. Scrivono in una nota stampe i rappresentanti della CGL nella dura avvertenza relativa al Tito Minniti per dare una prospettiva allo scalo e garanzie ai lavoratori per il mantenimento dei livelli occupazionali.